Una vita difficile, una vita da social. Lezioni sul pullman della polizia di Stato per creare maggiore consapevolezza negli adolescenti e nei più giovani sui rischi del web, sull'uso corretto dei social, sul cyberbullismo di vecchia e nuova generazione. E sembra che qualcosa sia rimasto nella mente di questi ragazzi della seconda media San Paolo di Perugia, rimasti ad ascoltare per quasi un'ora la lezione degli esperti informatici della polizia postale. Cos'è che hai capito? Ho capito che il cyberbullismo non è una cosa da scherzo. Bravo che è un reato. Sì. E quindi da evitare? Sì, molto. Momento importante a cui hanno voluto portare la propria testimonianza anche il prefetto e il questore di Perugia. Un dialogo più positivo con i nostri ragazzi probabilmente non riusciamo a fargli capire che è bene usare questi strumenti perché sono anche delle forme di crescita. Usare e non farsi usare. Esattamente, usare e non farsi usare. I pericoli sono tanti. Bisogna lavorare per cercare di fare capire quanto di positivo ci sia nell'utilizzo del web, di internet, ma anche quanti rischi si cedono dietro questo mondo, che è un mondo anche per certi versi complesso e se vuoi pericoloso.